ah noto con piacere che e certo è lavata è stata lavata ebbè vorrei vedere quindi è pronta per l'uso prontissimo per chi si fosse perso il contenuto precedente sui regali ciclici annuali al good fabio ragazzi vi invitiamo ad andare a quel contenuto ma adesso c'è sta robetta che qua io non lo sai ovviamente impossibile che tu sappia perché abitiamo in zone completamente diverse quindi mi avevi accennato ad un pacco che era ti avevo accennato ad un pacco in arrivo ma non so ovviamente ti devo spiegare attentamente la situazione e tranquilli perché l'ho solo aperto eh anzi vi faccio vedere mi sono ritrovato davanti questo mi volevo spoilerare qualcosa ma come ben vedi non si capisce niente quindi ciao ciao ragazzi ben ritrovati a tutti allora una marea di like no basta regali al buon fabio mi sono rotto lì no per il regalo di natale dai il regalo di natale al buon fabio lasciate quindi questa è una roba tua non è roba mi aspetto una marea di like su questo contenuto e facciamo il regalo di natale al buon fabio tra due mesi quando sarà però dipende tutto il regalo tanto te lo devo fare lo stesso mo non so se ne faremo un contenuto o se resterà una cosa privata ma benissimo dipende tutto da loro mi raccomando tu tu che stai guardando questo contenuto non ti costa niente lascia like ma soprattutto iscriviti e attiva le notifiche cliccando sulla campanella quando pubblichiamo qualcosa restate sempre aggiornati non vi perdete più niente due canali di calcio un canale extra calcio in descrizione o come sempre compariranno lì dove ha fatto vedere fabio durante il video se io ti dico solo che mi ha contattato un famosissimo brand ok no questa non è ci tengo a precisare questa cosa questa non è né una sponsor e né tecnicamente è una gifted no quando ti regalano le cose e ti dicono in cambio mi fai la sponsor no ragazzi questo era un regalo che mi è stato fatto privatamente e che io ho deciso di rendere pubblico tramite ringraziamento perché secondo me se lo stramerita già solo per il pensiero che ci ha avuto che hanno avuto per noi non so chi sei a chi si riferisce il brand eccetera però intanto grazie mille a prescindere ecco sono cose per me e per te hanno pensato a tutti e due proprio perché doppie allora proprio perché ci seguono da tanti anni ci stimano ci apprezzano per quello che facciamo sul web e io è per questo ragazzi che mi sentivo in dovere contraccambiamo di ringraziare allora con immenso piacere aggiungerei apri anzi no aspetta 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 non guarda perché non so sotto capace pure che tiri fuori e poi sotto se vede se vede sono imbustati uno ad uno da quello che ho capito ok quindi se sono imbustati uno ad uno e allora faccio così senza richiudi anzi guardo io no 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 posso lasciare si tanto è grigio uguale sono imbustati è così è imbustato così io da questa parte qui sento come se fosse una cosa trasparente cioè quindi se io questa la giro sicuramente lo vedi sicuramente si vede fai vedere prima a me anzi no guarda prima te io non so di che cosa si sta parlando perché mi volevo spoilere che è mi volevo spoilerare no aspetta ok ho capito qual è il brand mi volevo spoilerare ragazzi ma ho trovato così e ho detto vabbè senti tanto dobbiamo registrare il video che cos'è gira fammi vedere è una cosa meravigliosa è una cosa meravigliosa tu perlomeno il brand lo sa io non lo sapevo vai vai gira fammi vedere nooo ma questa è una felpa cioè guarda c'ho i brividi ragazzi c'ho i brividi ragazzi ci ha contattato il figlio Enzo che ci segue guarda che cosa ci hanno mandato è una cosa spettacolare questo è il famosissimo brand della Roma esatto di metà anni 80 anni 80 dai su su anche primi anni 90 forse non vorrei dire una cazzata forse primissimi anni 90 sì primissimi anni 90 sì però è l'iconica maglia che c'aveva appunto questo sponsor e qua si intravede ragazzi ma Barilla AS Roma Barilla il lupo della Roma AS Roma AS Roma AS Roma AS Barilla AS Roma 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 AS da laterale mamma no ragazzi senti Enzo e anche ovviamente di rimbalzo a papà a Nicola grazie immensamente già solo questa mamma mia qua dentro è pieno di roba cioè ci fossero solamente una di questa e una identica per te insomma una per me una per te basterebbe è una cosa no secondo me ci sta anche la maglia mamma mia vediamo vediamo te la puoi anche tenere nel frattempo no ma infatti me la tengo ma chi se la toglie vai non guarda guarda a me sotto guarda a me sotto tanto è coperto come quell'altro quindi stai tranquillo che si vede la mazza guarda e poi faccia vedere pure a noi che cos'è gira c'è anche l'altra e questa è per me c'è anche l'altra e questa è per me c'è anche l'altra questa è per me ragazzi miei è sempre M ragazzi quindi a me questa alla fine mi sta bene questa non la apro grazie immensamente questa è la mia quindi tanto sì sì questa è la tua la state vedendo è lo spettacolo ragazzi interamente addossa a me comunque come se ho dimenticato vi lascio in descrizione il link al sito di Nicola Raccuglia mi raccomando fateci un salto perché ne vale la pena non è solo brandizzato S Roma cose del passato della S Roma io mi ricordo io mi ricordo Napoli mi ricordo la Fiorentina di Roberto Baggio mi ricordo tante altre squadre del passato ragazzi sì potete smucinare cose veramente interessanti interessanti ma questo è blu non guarda non si vede niente hai sbirciato se vede niente tanto te lo vede prima io quindi tacci tua che roba è che roba è nooo cioè no io non ci posso credere ma che tessuto è e questo penso sia il tessuto che utilizzavano ma io non ci posso credere questo forse sarà proprio o cotone perché c'è no aspetta la tiriamo fuori così no ragazzi no ragazzi io mi sento male no ragazzi ma guarda c'è pure il numero dietro ma questo è de Bruno Conti non ci posso credere ma questo è il set de Bruno Conti ma io non ce l'ho che cazzo ci hanno mandato ragazzi io mi sto sentin male ragazzi mi sto sentin male gira sta cosa no guarda ma ragazzi ma sentila mamma mia un spettacolo ragazzi è uno spettacolo mamma mia quanto è bello ragazzi cioè il simbolo della ma qua non c'è il simbolo della Coppa Italia dai su da del brand NR ma il tessuto ragazzi il tessuto mamma mia cioè cose che adesso non si vedono più no no queste sono cose proprio ma ti posso dire che erano meglio così i tessuti piuttosto che l'acetato di un altro mondo io non so i calciatori sinceramente cioè non ho mai giocato con una maglietta del genere ed è sto tessuto non so come puoi sentirti d'estate secondo me in fochi forse un pochetto in fochi però se le facevano così ragazzi ma faceva pure più freddo negli anni 80 chissà chissà però comunque mamma mia aspetta no raga grazie grazie è una cosa Nicola Enzo grazie è una cosa fantastica immensamente grazie ma non è finita qua c'è stata è una cosa fantastica qua c'è stata altra roba tira fuori fammi vedere che c'è sta me sto senti male non guarda ha già guardato eh vabbè eh vabbè se c'è sta se c'è sta quella bianca nooo non può che esserci anche quella rossa ma c'è stata altra roba mamma mia no questa è quella home tiriamo subito fuori tiriamo subito fuori no raga e anche questa ragazzi con la sette dei conti non ci posso credere ma come hanno fatto ma i numeri ma me ne sto accorgendo ma era ricamato sono proprio cusciti non so stampati questi sono cusciti c'è la cucitura ragazzi guardate bene questa dura cento volte di più di maia rispetto a quelle di mo questa in teoria non si distrugge è indelebile questa è fatta per durà ragazzi mamma mia che ricordi no raga io mi sto sentendo male che ricordi io mi sto sentendo male è una cosa mamma mia ma pure pure lo sponsor cioè guarda com'è questo è stampato però sembra si ma è se lega perfettamente con la manetta esattamente ma poi le maglie col colletto del passato erano qualcosa di spettacolo mamma mia raga io non so più come ringraziabbe veramente una cosa fantastica ci avete fatto dei regali clamorosi cioè bastava una maglia una maglia per me un maglione per lui ci avete regalato il mondo e qua dentro c'è ancora qualcosa o più di qualcosa un'altra 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 cosa che non so che cosa ho visto rosso eh sì è la stessa quindi è la stessa è la stessa quindi sono due rosse vogliamo vedere il numero si vedi dai successiamo penso che sarà sempre sicuramente fatta sette a entrambi sicuramente e c'è ancora mamma mia il numero sette mamma mia io non ho parole veramente grazie immensamente di cuore ribadisco Nicola Racuglia e soprattutto Enzo che è il figlio e che ci ha che ci ha contattati per ringraziarci ci ha voluto regalare tutto questo merchandising del loro brand ovviamente per quando erano della S Roma e questi sono i risultati regalo più bello veramente queste le terremo come reliquie però io regalo io non riesco a tenerle dentro una che ne so dentro faccio il quadro che io queste sono cose che mi devo mettere addosso sai che io forse a una di queste il quadro ce la faccio no io sta roba me la metto io sta roba me la metto perché mi piace mi piace viverla addosso eh guarda ti capisco però questa maglia in particolare per noi ma a parte una reliquia ma rappresenta il nostro periodo de massimo splendore come società cioè tu quando vedevi stamaglia era riconosciuto in giro per tutto il mondo perché stamaglia ce l'aveva Falcao stamaglia ce l'aveva Bruno Conti ce l'aveva Roberto Fruzzo Ancelotti tutti Ancelotti Carletto Ancelotti i campioni più campioni che hanno giocato all'epoca giocavano tutti da noi ragazzi grazie questa per noi vuol dire tutto grazie immensamente di cuore lasciate like se vi è piaciuto il contenuto ribadisco trovate il link del sito di Nicola Raccuglia in descrizione vi lascio anche i loro profili social grazie Enzo grazie Nicola grazie grazie ancora alla prossima con un nuovo video ciao ragazzi ciao ciao